Oggi è proprio un bel giorno. E perché? Ci abbiamo dato, che ci abbiamo dato, che ci abbiamo dato. Dai mo'. Andrea, tu sei troppo satanato con le donne. Ci vuole più intelletto. Bisogna essere culturalmente preparati. Certo, dai. Tu la protesi sai dove te la devi fare? Al cervello. Sì, poi quando sei adunque cosa gli dai? Del cervellino fritto? Ma sì. Ma dagli ben della mortadelona, dagli. Ma cosa stai a dire, dai? Oh. Cosa fai? Tocchi. T'ho toccato io. T'ho toccato io a te. Eh? Ti tocco io. L'aria di tutti. Ma dai. Senti, cerchia bene e lasciami in pace, per favore. Qua è il campo mio o là il campo tuo? Stai mo' dalla tua parte? Ma che è il campo mio, campo tuo? Campo mio, campo tuo? Passiamo di là che sconfinare. Basta, mi hai rotti i maroni, va bene? Mi hai rotti i maroni, dai mo'. Vai. Ma cosa fai? Tu cosa fai? Tiri la polvere? Sì, polvere siamo e polvere diventeremo. Sì, negri puliggine. Dai, dai, deficiente. Gli indiani sono tutti campi da tennis. Con gli schiimesi fa le granatine.